Fermi, non scrollate che se famo tu risate, insomma c'è una coppietta che si sposa e parte per il viaggio di nozze in Francia. Quindi, mentre moglie e marito stanno passeggiando sulle Champs-Élysées, notano un localino con una lavagnetta con scritto qua si esibisce il grande François, l'uomo che spacca le noci con il membro. Allora i due incuriositi entrano dentro sto locale e vedono sto François che mette cinque noci su un tavolino, se sfodere al membro e le spacca tutte e cinque, allora i due increduli e emozionati escono dal locale e continuano la loro passeggiata. Ma dopo venticinque anni festeggiano le nozze d'argento, quindi decidono di festeggiare l'evento di nuovo in Francia, quindi stanno passeggiando sulle Champs-Élysées e la moglie dice al marito caro, ma vogliamo ripassare in quel locale dove si esibiva quel pazzo che spaccava le noci col membro? E il marito, ma te pare che sta ancora lì? Ma sì da caro proviamoci, insomma i due si avviano verso questo vecchio locale e ritrovano sto locale e c'è ancora la lavagnetta con scritto qua si esibisce il grande François, l'uomo che spacca le noci con il membro, allora entrano di nuovo dentro a questo locale dopo venticinque anni e vedono sto François molto più anziano che mette cinque noci de cocco sul tavolo, se sfodere al membro e le spacca tutte e cinque, allora la moglie incredula va da François e gli fa François ma è incredibile, noi siamo venuti venticinque anni fa e spaccava le noci, ora spacca addirittura le noci de cocco e François, beh sa madame dopo venticinque anni la vista cala.